La regione siciliana si dota per la prima volta di una strategia regionale per la valorizzazione dei beni confiscati, che prevede alcune azioni per rendere più efficiente e trasparente la restituzione alla comunità di beni e aziende sottratti alla criminalità organizzata, anche grazie al sostegno progettuale ed economico. Il documento, elaborato da un apposito gruppo di lavoro, voluto dall'assessorato all'economia in collaborazione con la Segreteria Generale della Presidenza, è stato approvato dal Governo regionale e presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans dal Presidente Musumeci, dall'assessore all'economia Gaetano Armao e dal dirigente responsabile del coordinamento in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, Emanuela Giuliano. Per la prima volta, sottolinea Musumeci, il Governo regionale ha individuato un percorso per puntare a nuove opportunità di sviluppo, fornire servizi innovativi e creare occupazione proprio grazie ai beni sottratti alla criminalità organizzata. Questa nostra terra, bellissima e disgraziata, è infatti un grande patrimonio inutilizzato di immobili e di aziende, una volta appartenute alla mafia, il cui valore è dunque fortemente simbolico per il mio Governo, dice Musumeci, che sin dal suo primo insediamento ha assunto la legalità quale cifra della propria azione politica. Riteniamo che da tali beni, frutto di malaffare e traffici illeciti, spesso abbandonati, vandalizzati o relegati in dimenticatoio senza fine, passano rinascite, bellezza e profilo, perseguendo al contempo il riscatto morale della comunità. Sfrutteremo le risorse del PNR, ha evidenziato l'assessore Armao, per valorizzare alcuni beni. Siamo già pronti, con quattro progetti da circa 15 milioni di euro per la procedura avviata dal Ministero della Coesione del Sud. Ci presenteremo con un'iniziativa per verbum caudo a polizi generosa e per un'azienda confiscata a Salemi, ex il regno dei salvo e quindi esempio emblematico di un riscatto della Sicilia dalla mafia.